Ciao ragazzi, bentornati su Hobby&Work. Oggi torniamo a parlare della fresatrice verticale della Parkside, visto che alcuni di voi mi hanno contattato chiedendomi come si fa a registrare la profondità di fresata della fresatrice. Niente, è molto semplice, ci vogliono due minuti, quindi ho deciso di creare questo piccolo video per spiegarvelo. La prima cosa da fare è conoscere la dima della nostra fresatrice, perché ogni fresatrice ha una dima che è costruita in maniera diversa. La fresatrice della Parkside possiede questa dima, che si chiama barra micrometrica. La barra micrometrica della fresatrice della Parkside funziona in questa maniera. Se noi avvitiamo qua in alto, come vedete, esce un perno in basso. Questo perno è quello che doserà la nostra fresata. Quindi cosa facciamo noi? Rinseriamo il perno nella sua sede, montiamo la punta che vogliamo utilizzare per fresare. Come vedete io per una questione di tempo l'ho già montata. Abbassiamo la fresatrice fino a far toccare la punta fino al pannello che vogliamo fresare e agiamo sulla leva che posta sul retro per bloccare la macchina. Come vedete, la punta rimane bloccata al pannello. A questo punto siamo pronti per regolare la nostra fresata. Avvitiamo, come vedete, la vite esce e la barra micrometrica sale. Qui ci sono segnati i millimetri. Noi facciamo così. Avvitiamo la tutta fino ad arrivare a un centimetro. A questo punto agiamo su questa vite, blocchiamo la nostra barra micrometrica, sblocchiamo la fresatrice e riavvitiamo la vite. A questo punto siamo pronti per creare una fresata di profondità un centimetro. Il mio consiglio è quello di non fresare mai un centimetro. Primo perché la fresata non verrà mai bene e secondo perché bruceremo le nostre punte. Quindi cosa facciamo? Agiamo sul castelletto, come vedete, magari diamo un tocco, come vedete. Qui rimane mezzo centimetro, quindi cosa vuol dire? Che la profondità di taglio sarà di mezzo centimetro. Facciamo la nostra passata, spostiamo il castelletto un'altra volta. Come vedete il buco qua sarà maggiore, quindi la profondità sarà la nostra profondità che abbiamo deciso di fresare. Siamo giunti al termine di questa mini recensione, spero che vi sia piaciuta. Come sapete questo è il mio attrezzo preferito della linea Parkside perché costa poco e funziona veramente bene. Lo utilizzo quanto più posso e niente, se avete qualche altra domanda da farmi o qualcuno ha bisogno di qualche chiarimento, scrivetemi pure qua sotto e sarò lieto di aiutarvi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e mettete un like se vi è piaciuto il video. Grazie e buona Pasqua.